Come descrivere due conti che si intrecciano, come parlare di due mondi che smicciano, non lo so fare più soffitto e raccontare della prima di una serie di un milione e di un miliardo di volte che sono stato con te. Un passo verso te mi stacca la terra con distanza da me, seguendo l'unica maniera che io ti direi. Come descrivere due conti che si intrecciano, come parlare di due mondi che smicciano, non lo so fare più soffitto e raccontare della prima di una serie di un milione e di un miliardo di volte in cui sono stato con te. Non so che fare più soffitto e raccontare della prima di una serie di un milione e di un miliardo di volte in cui sono stato con te. Grazie. 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 Grazie.